un vero amore è quello che sa offrirsi come faccio a capire se amo veramente una persona mi domando sono capace a dare la vita per quella persona e questa è una domanda che ci facciamo oggi e che siamo chiamati a farci sempre è il sì di ogni giorno che si basa sul per sempre che Dio ha detto per noi amo reciprocamente vuol dire che io amo un altro mi metto in relazione e questo è quello che fa la differenza l'amore va a braccetto con il sacrificio perché vi dovete offrire vicendevolmente solo così capirete di volervi bene sul serio e non solo a parole Alessandra lavora su qualcosa di Paolo, Paolo su qualcosa di Alessandra per questo buon cammino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco il cammino insieme